Eccoci con l'ennesima occasione che ci porta Claudio, lo conoscete perché già in altri filmati mi ha fatto la cortesia di presentare l'autolettura, anche perché conosce meglio lui. Claudio, la tua macchina che cos'è? Che cos'è che si distingue, che la distingue da altre autoletture simili? Beh, a parte l'accomandazione, tetto nero e vernice bianca che è meravigliosa, poi gli accessori, che cos'è la macchina? Gli accessori, che stiamo parlando di Naudia 1.4 TFSI, 122 cavalli, S-Tronic, col cambio in 7 marce. In più poi i fari di Xeno adattivi, con i lava-fari, i CEPI da 17, il percuccio in ventro panoramico e logicamente l'allestimento sportivo dell'allestimento a mission. In più internamente c'è il sistema mediato, con il suo schermo indichudibile, agonibile, che su tutte le Aldi ha uno, c'è veramente una caratteristica. I chilometri sono? I chilometri sono vettuti 1.9 città. Appena stato fatto un'unica sia tagliato, ci avete segnato sul liberto service, è stato rinnovato il servizio di utilità, che è il servizio che ha Audi e Volkswagen, danno sulle autovetture, i carroattrezzi gratuiti, autovetture sostitutive, tutte queste cose. Possiamo dire al nostro futuro cliente che questa è veramente un'occasione? La macchina è veramente un'occasione, è veramente una bella macchina per chi vuole avere una piccola Audi ma alla fine ha una grande Audi. Grazie.